Lega e Movimento 5 Stelle, la consultazione per dare a Salvini e Di Maio il via libera, la firma del contratto di governo, entra di prepotenza nei gazebo già previsti per la campagna elettorale delle amministrative. Se i grillini hanno votato online attraverso la piattaforma Russo, anche nella marca iscritti e simpatizzanti del Carroccio si fermano a confermare la fiducia al loro leader e ai punti inseriti nell'accordo con gli inediti alleati di governo. C'è addirittura chi si fa immortalare mentre traccia la storica crocetta sul sì. Siamo arrivati circa a 300 firme raccolte, abbiamo 5 gazebo distribuiti sul territorio del comune di Treviso e domani usciamo anche domani ma il risultato sarà un ottimo risultato. Tanta gente ci crede a questo governo di cambiamento, speriamo che ci permettono di farlo. Tendenza confermata da Piove di Sacco dal segretario nazionale Gian Antonio Dare che parla di un 96% di sì contro un 3-4% di no. La piena fiducia nel segretario Salvini riesce a compensare la diffidenza espressa da più d'uno verso Di Maio. Chi è il gazebo non ci è andato proprio all'eretico Bepi Covre? Avrei di certo votato no. Fa sapere critico verso il contratto e verso i due leader, due giovanotti con ambizioni smisurate, li definisce concludendo, credetemi, rimpiangeremo gentiloni. Dalla Lega ai 5 Stelle anche la marca si è espressa online. Possiamo dire che gran parte dei temi che erano nel programma sono rimasti in questo contratto, questo è un contratto, non un'alleanza, per il bene del paese. Ci sono state decine di migliaia di persone che hanno votato e che quindi hanno potuto dire la loro.